Io sono convinto che tutti si possa ritrovare il senso di una maggiore coesione delle forti maggianze. Qualcuno deve avere il coraggio anche per gli altri di dire che il re è nudo. Come andrà a finire? Conte e ter, governo istituzionale o elezioni anticipate? Matteo Renzi, ospite studio. Massimo Giletti conduce Non è l'arena. Domenica sera alle 20.30 sulla 7.